Capitolo 13 E avvenne che io vidi fra le nazioni e i gentili la formazione di una grande chiesa, e l'angelo mi disse, guarda la formazione di una chiesa che è la più abominevole di tutte le altre chiese, che uccide i santi di Dio, si li tortura e li incatena, e li aggioca con un gioco di ferro, e li riduce in schiavitù. E avvenne che io vidi questa chiesa grande e abominevole, e vidi il diavolo che n'era il fondatore. E vidi pure oro e argento e sete e porpore e stoffe e bentessute, e ogni sorta di preziosi abbigliamenti, e vidi molte meretrici. E l'angelo mi parlò dicendo, vedi l'oro, l'argento, le sete, le porpore e le stoffe bentessute, i preziosi abbigliamenti e le meretrici, sono i disperi di questa chiesa grande e abominevole. E anche per le lodi del mondo essi distruggono i santi di Dio e li riducono in schiavitù. E avvenne che io guardai e vidi molte acque ed esse, dividevano i gentili dalla posterità dei miei fratelli. E avvenne che l'angelo mi disse, vedi la collera di Dio è sulla posterità dei tuoi fratelli. E io guardai e vidi un uomo fra i gentili che era separato dalla posterità dei miei fratelli, dalle molte acque, e vidi lo Spirito di Dio che scese e agì su quell'uomo, ed egli avanzò sulle molte acque, proprio fino alla posterità dei miei fratelli che erano nella terra promessa. E avvenne che io vidi lo Spirito di Dio che agiva su altri gentili, ed essi uscirono fuori di schiavitù, sulle molte acque. E avvenne che vidi numerose moltitudini di gentili sulla terra di promessa, e vidi l'ira di Dio che era sulla posterità dei miei fratelli, ed essi erano dispersi davanti ai gentili ed erano percossi. E vidi lo Spirito del Signore che era sui gentili, ed essi prosperavano e ottenevano il paese per loro eredità, e vidi che erano bianchi e molto attraenti e belli, come quelli del mio popolo, prima che essi fossero uccisi. E avvenne che io nevi vidi che i gentili erano usciti di schiavitù, si umiliavano davanti al Signore, e il potere del Signore era con loro. E vidi che le madri e i padri dei gentili si radunavano sulle acque e anche sulla terra per combattere contro di loro. E vidi che il potere di Dio era con loro, e anche che l'ira di Dio era su tutti quelli che erano radunati per combattere contro di loro. E io nevi vidi che i gentili che erano usciti di schiavitù, erano liberati dal potere di Dio e dalle mani di tutte le altre nazioni. E avvenne che io nevi vidi che prosperavamo nel paese, e vidi un libro che esso veniva diffuso tra loro. E l'angelo mi disse, conosci il significato del libro? E io gli disse, non lo conosco. Ed egli disse, ecco esce dalla bocca di un giudeo. E io, nevi, lo vidi. Ed egli mi disse, il libro che vedi è una storia dei giudei, che contiene le alleanze che il Signore ha fatto con il casato Israele, e contiene pure molte delle profezie dei santi profeti. Ed è una storia simile alle incisioni che sono sulle tavole di bronzo, salvo che non ce ne sono così tante. Non di meno, essi contengono le alleanze che il Signore ha fatto con il casato Israele. Pertanto, sono di grande valore per i gentili. E l'angelo del Signore mi disse, hai visto che il libro usciva dalla bocca di un giudeo, e quando usciva dalla bocca di un giudeo, e conteneva la pienezza del Vangelo, il Signore del quale i dodici apostoli portano testimonianza. Ed essi portano testimonianza, secondo la verità, che è nell'agnello di Dio. Pertanto, queste cose passano in purezza dei giudei ai gentili, secondo la verità che è in Dio. E dopo essere passate per mano dei dodici apostoli, dell'agnello dei giudei ai gentili, vedi la formazione di quella chiesa grande e abominevole, che è la più abominevole di tutte le altre chiese, poiché, ecco, essi hanno tolto del Vangelo, dell'agnello, molte parti che sono chiare e preziosissime, e hanno anche tolto molte alleanze del Signore. E hanno fatto tutto questo per poter pervertire le giuste vie del Signore, per poter accecare gli occhi e indurre il cuore dei figli uomini. Pertanto, tu vedi che dopo che il libro è passato per le mani della chiesa grande e abominevole, vi sono molte cose chiare e preziose che sono state tolte dal libro, che è il libro dell'agnello di Dio. E dopo che queste cose chiare e preziose sono state tolte, esse, esso si diffonde in tutte le nazioni dei gentili. E dopo che è diffuso fra tutte le nazioni dei gentili, sì, e anche al di là delle molte acque che tu hai visto assieme ai gentili, che sono usciti fuori di schiavitù, tu vedi, a causa delle molte cose chiare e preziose che sono state tolte dal libro, che erano chiare alla comprensione dei figli uomini, secondo la chiarezza che è nell'agnello di Dio, a causa di queste cose che sono tolte dal Vangelo dell'agnello. Moltissimi davvero inciampano, sì, tanto che Satana ha grande potere su di oro. Non di meno, tu, che i gentili che sono usciti fuori di schiavitù e che sono stati elevati dal potere di Dio sopra tutte le altre nazioni, sulla faccia della terra, che è scelta sopra tutte le altre terre, che è la terra riguardo alla quale il Signore Dio pece alleanza con tuo padre, che la sua posterità avrebbe posseguito come terra di loro realità. Pertanto vedi che il Signore Dio non permetterà che i gentili annientino completamente la nascolanza della tua posterità che è fra i tuoi fratelli, e neppure permetterà che i gentili annientino la posterità dei tuoi fratelli, né il Signore Dio permetterà che i gentili rimangano per sempre in quell'ordine orribile stato di cecità in cui vedi che si trovano a causa delle parti chiare e preziosissime del Vangelo dell'agnello che sono state celate da quella chiesa abominevole di cui hai visto la formazione. Pertanto dice l'agnello Dio Io sono misericordioso verso i gentili fino a visitare il residuo del casato Israele con grandi giudizi e avvenne che l'angelo del Signore mi parlò dicendo Ecco, dice l'agnello di Dio Dopo che avrò visitato il residuo del casato Israele e questo residuo di cui parla è la posterità di tuo padre Pertanto dopo che l'avrò visitato in giudizio è il percorso per mano dei gentili e dopo che i gentili avranno inciampato grandemente a causa delle parti molto chiare e preziose del Vangelo dell'agnello che sono state celate da quella chiesa abominevole che è la madre delle meretrici dice l'agnello In quel giorno io sarò misericordioso verso i gentili tanto che farò venire alla luce per loro mediante il mio potere gran parte del mio Vangelo che sarà chiaro e prezioso dice l'agnello Poiché ecco, dice l'agnello io mi manifesterò alla tua posterità cosicché essi scriveranno molte cose che io impartirò loro che saranno chiare e preziose e dopo che la tua posterità sarà stata distrutta e sarà degenerata nell'incredulità come pure la posterità dei tuoi fratelli ecco queste cose saranno nascoste per venire alla luce per i gentili per dono e potere dell'agnello e in esse sarà scritto il mio Vangelo dice l'agnello e la mia roccia è la mia salvezza e benedetti sono coloro che cercheranno di far sorgere la mia Sion in quel giorno poiché avranno il dono e il potere dell'ospito santo e se perseveranno fino alla fine saranno elevati all'ultimo giorno e saranno salvati nel regno eterno dell'agnello e coloro annunzieranno la pace sì, notizie di grande gioia quanto saranno belli essi sulle montagne ed avvenne che io vidi il residuo della posterità dei miei fratelli e anche il libro dell'agnello di Dio che era uscito dalla bocca del giudeo che passò dai gentili al residuo della posterità dei miei fratelli e dopo che fu passato ad essi vidi altri libri che passavano dai gentili all'oro per il potere dell'agnello per convincere i gentili del residuo della posterità dei miei fratelli e anche i giudei che erano dispersi su tutta la faccia della terra che gli annali dei profeti e dei dodici apostoli dell'agnello sono veritieri e l'angelo mi parlò dicendo questi ultimi annali che hai visto pre gentili confermeranno la verità dei primi che sono dei dodici apostoli dell'agnello e faranno conoscere le cose chiare e preziose e che ne sono state tolte e faranno conoscere a tutte le tribù lingue e popoli che l'agnello di Dio è il figlio del Padre Eterno è il Salvatore del mondo e che tutti i uomini debbono venire a Lui altrimenti non possono essere salvati e devono venire secondo le parole che saranno confermate dalla bocca dell'agnello e le parole dell'agnello saranno rese note negli annali della tua posterità così come negli annali dei dodici apostoli dell'agnello pertanto saranno entrambi confermati in uno poiché vi è un solo Dio è un solo pastore su tutta la terra e viene il tempo in cui Egli si manifesterà a tutte le nazioni sia ai giudei che ai gentili e dopo essersi manifestato ai giudei anche ai gentili allora Egli si manifesterà ai gentili e anche ai giudei e gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi capitolo 14 e avverrà che se i gentili tranno ascolto all'agnello di Dio nel giorno in cui Egli si manifesterà a loro in parole e anche in potere in verità fino a togliere le loro pietre d'inciampo e non induriranno il loro cuore contro l'agnello essi saranno noverati tra la posterità di tuo padre e essi saranno noverati nel casato Israele saranno un popolo benedetto nella terra promessa per sempre non saranno mai più ridotti schiavitù e il casato Israele non sarà più confuso E quel grande abisso che è stato scavato per loro da quella chiesa grande e abominevole che fu fondata dal diavolo e dai suoi figli affinché potesse condurre le anime dei uomini giù in inferno sì, quel grande abisso che è stato scavato per la distruzione degli uomini sarà riempito con quelli che scavarono e scavarono fino alla loro completa distruzione dice l'agnello di Dio non la distruzione dell'anima salvo che sia gettata in quell'inferno che non ha fine poiché ecco fu e secondo la schiavitù del diavolo e anche secondo la giustizia di Dio per tutti coloro che opereranno nella malvagità e nell'abominazione al suo cospetto gli avvenne che l'angelo parlò a me Nefi dicendo hai visto che se i gentili si pentono tutto andrà bene per loro e tu hai pure conoscenza riguardo alle alleanze del Signore con il casato di Israele e hai anche udito che chiunque non si pente deve perire guai dunque i gentili se accadrà che induriranno il cuore contro l'agnello di Dio poiché verrà il tempo dice l'agnello di Dio in cui io compirò un'opera grande e meravigliosa fra i figli degli uomini un'opera che per un verso o per l'altra sarà perpetua o per convincerli alla pace e alla vita eterna o per abbandonarli alla durezza del loro cuore e alla siccità della loro mente fino a che siano ridotti in schiavitù e anche alla distruzione sia materiale che spirituale secondo la schiavitù del diavolo di cui ho parlato gli avvenne che quando l'angelo ebbe detto queste parole mi disse ricordi le alleanze del padre con il casato Israele? io gli disse sì gli avvenne che egli mi disse guarda e vedi questa chiesa grande e abominevole che è la madre delle abominazioni il cui fondatore è il diavolo ed egli mi disse ecco non vi sono che due chiese soltanto una è la chiesa dell'agnello dell'agnello di Dio e l'altra è la chiesa del diavolo pertanto chiunque non appartiene alla chiesa dell'agnello di Dio appartiene a quella grande chiesa che è la madre delle abominazioni ed è la prostituta di tutta la terra e avvenne che guardai e vidi la prostituta di tutta la terra e sedeva su molte acque e aveva domino sopra tutta la terra fra tutte le nazioni tribù, lingue e popoli e avvenne che io vidi la chiesa dell'agnello di Dio ed era poco numerosa a causa della malvagità delle abominazioni della prostituta che sedeva su molte acque non di meno vidi che la chiesa dell'agnello che erano i santi di Dio era pure su tutta la faccia della terra e i suoi domini sulla faccia della terra erano amodesti a causa della malvagità della grande prostituta che aveva visto e avvenne che vidi che la grande madre dell'abominazione radunava delle moltitudine sulla faccia di tutta la terra tra tutte le nazioni di gentili per combattere contro l'agnello di Dio e avvenne che io, Nefi vidi il potere dell'agnello di Dio che scendeva sui santi della chiesa dell'agnello e sul popolo dell'alleanza del Signore che era disperso su tutta la faccia della terra ed esso era armato di rettitudine e del potere di Dio in grande gloia e avvenne che io vedi che l'ira di Dio era riversata su quella chiesa grande e abominevole tanto che ci furono guerre rumori di guerra tra tutte le nazioni tribù della terra e mentre cominciavano ad essere guerre rumori di guerre fra tutte le nazioni che appartenevano alla madre delle abominazioni l'angelo mi parlò dicendo guarda l'ira di Dio è sulla madre delle meretrici ed ecco tu vedi tutte queste cose e quando verrà il giorno in cui l'ira di Dio sarà riversata sulla madre delle meretrici che è la chiesa grande e abominevole di tutta la terra il cui fondatore è il diavolo allora in quel giorno comincerà l'opera del padre col preparare la via all'edempimento delle sue alleanze che egli ha fatto col suo popolo che è del casato Israele gli avvenne che l'angelo mi parlò dicendo guarda e guardai e vidi un uomo ed era vestito di una veste bianca e l'angelo mi disse ecco uno dei dodici apostoli dell'agnello ecco e gli vedrà e scriverà il resto di queste cose sì e anche molte altre cose che sono avvenute e scriverà pure riguardo alla fine del mondo pertanto le cose che scriverà sono giuste e vere ed ecco sono scritte in libro che vedessi uscire dalla bocca del giudeo e dal tempo in cui usciranno dalla bocca del giudeo ovvero al tempo in cui il libro uscì dalla bocca del giudeo le cose che erano scritte erano chiare e pure e preziosissime e facili ad essere comprese da tutti gli uomini ed ecco le cose che questo posto dell'agnello scriverà saranno molte cose che tu hai visto ed ecco il resto lo vedrai ma le cose che vedrai qui di seguito non le scriverai poiché il signore dio ha ordinato l'apostolo dell'agnello di dio affinché sia lui a scriverle e anche ad altri che sono vissuti prima egli ha mostrato tutte le cose ed essi le hanno scritte e sono sigilate per venire alla luce nella loro purezza secondo la verità che è nell'agnello al tempo stabilito dal signore al casato di israele e io nefi udì e porto testimonianza che il nome dell'apostolo dell'agnello era giovanni secondo le parole dell'angelo ed ecco a me nefi è stato proibito di scrivere il resto delle cose che avevo visto e udito pertanto le cose che ho scritto mi sono sufficienti e non ho scritto che una piccola parte delle cose che ho visto e porto testimonianza di aver visto le cose che vide mio padre e l'angelo del signore me le ha fatte conoscere ed ora smetto di parlare riguardo alle cose che vidi mentre ero rapito nello spirito e se tutte le cose che vidi non sono scritte le cose che ho scritto sono vere e così è Amen Capitolo 15 E avvenne che io Nefi dopo essere stato rapito nello spirito e aver visto tutte queste cose ritornai alla tenda di mio padre e avvenne che vidi i miei fratelli che stavano discutendo l'uno con l'altro in merito alle cose che mio padre aveva detto loro poiché in verità egli aveva detto loro molte cose grandi che erano difficili da capire a meno che non si chieda al Signore ed essendo essi duri di cuore non si rivolgerono dunque al Signore come avrebbero dovuto ed ora io Nefi ero afflitto a causa della durezza del loro cuore e anche per le cose che avevo visto e sapevo che dovevano inevitabilmente avvenire a causa della grande malvagità dei figoli degli uomini e avvenne che fui soprafatto a causa delle mie afflizioni poiché considerava che le mie afflizioni erano grande oltre ogni cosa a causa della distruzione del mio popolo poiché avevo visto la sua caduta e avvenne che dopo che ebbi ricevuto forza parlai ai miei fratelli desiderando conoscere da loro la causa della loro dispute ed essi dissero ecco non possiamo comprendere le parole che il nostro padre ha detto riguardo ai rami naturali dell'olivo e anche riguardo ai gentili e io dissi loro avete chiesto il signore ed essi ministrano non l'abbiamo fatto perché il signore non ci fa conoscere tali cose ecco io dissi loro come mai non obbedite ai comandamenti il signore come mai volete perire a causa della durezza del vostro cuore non ricordate le cose che ha detto il signore se non indurete il vostro cuore e mi chiederete con fede credendo che riceverete obbedendo diligentemente i miei condamenti queste cose vi saranno certamente rese note ecco io vi dico che il cassato israele fu paragonato a un olivo dallo spirito del signore che era il nostro padre ed ecco noi siamo non siamo noi stati staccati dal cassato di israele e non siamo noi un ramo del cassato di israele ed ora ciò che vuol dire nostro padre riguardo all'innesso dei rami naturali attraverso la pienezza dei gentili è che negli ultimi giorni quando la nostra posterità sarà degenerata nell'incredibilità si per lo spazio di molti anni e molte generazioni dopo che nel corpo ai figlioli dei uomini allora la pienezza del vangelo del messia giungerà ai gentili e dai gentili al residuo della nostra posterità e in quel giorno il residuo della nostra posterità saprà di essere del cassato israele e di essere il popolo dell'alleanza del signore e allora essi sapranno e verranno a conoscenza dei loro antenati e anche a conoscenza del vangelo del loro redentore che fu da lui impartito ai loro padri pertanto essi verranno a conoscenza del loro redentore e dei punti precisi della sua dottrina affinché possa sapere come venire a lui ed essere salvati e allora in quel giorno non gioiranno essi e non daranno lode a loro eterno dio loro rocca e loro salvezza sì in quel non riceveranno essi forse il nutrimento della vera vigna sì non verranno essi al vero reggio di dio ecco io vi dico sì essi saranno di nuovo ricordati fra il casato israele e saranno in estate secondo un ramo naturale dell'olivo sul vero olivo e questo è ciò che vuol dire nostro padre vuol dire che ciò non avverrà fin dopo che saranno stati dispersi dai gentili e vuol dire che ciò avverrà per il tramite dei gentili affinché il signore possa mostrare il suo potere ai gentili per la precisa ragione che gli sarà stato rigettato dai giudei ossia dal casato israele per pertanto nostro padre non ha parlato soltanto della nostra posterità ma anche di tutto il casato israele sottolineando l'alleanza che verrà adempiuta negli ultimi giorni alleanza che il signore fece con nostro padre ebramo dicendo nella tua posterità tutte le tribù della terra saranno benedette ebbene che io nefi parlai loro molto riguardo a queste cose e parlai loro riguardo alla restaurazione dei giudei negli ultimi giorni e ripetei loro le parole di Isaia che parlò riguardo alla restaurazione dei giudei ossia del casato israele e che dopo essere stati ristabiliti non sarebbero più stati confusi né sarebbero più stati dispersi e avvenne che io dissi molte parole ai miei fratelli cosicché essi furono pacificati e si umiliarono dinanzi al Signore e avvenne che essi mi parlarono di nuovo dicendo che significa ciò che il nostro padre ha visto in sogno che significa l'albero che gli ha visto e io dissi loro era una raffigurazione dell'albero della vita ed essi mi che condusse all'albero io gli dissi loro che era la parola di Dio e che chiunque avesse dato ascolto la parola di Dio e vi fosse attenuto saldamente non sarebbe mai perito né le tentazioni né i dardi feroci dell'avversario avrebbero potuto sopraffarli fino ad accecarli per trascinarli all'istruzione pertanto io ne gli esortai a prestare attenzione con tutte le energie della mia anima e con tutte le facoltà che possedevo a prestare attenzione alla parola di Dio e a ricordarsi di obbedire sempre ai suoi comandamenti in ogni cosa ed essi mi dissero che significa il fiume d'acqua che vide nostro padre e io dissi loro che l'acqua che aveva visto nostro padre era sozzurra e che la sua mente era così immersa in altre cose che non aveva visto la sozzurra dell'acqua e dissi loro che era un'orribile voragine che separava i malvaggi dall'albero della vita e anche dai santi di Dio e dissi loro che era una raffigazione di quell'orribile inferno che l'angelo mi disse che era stato preparato per i malvaggi e dissi loro che nostro padre aveva visto pure che anche la giustizia di Dio divideva i malvaggi dai giusti e che il loro splendore era come lo splendore di un fuoco fiammeggiante che ascende verso Dio per sempre e in eterno e non ha fine ed essi mi dissero significa questo il tormento del corpo nei giorni di prova e significa lo stato finale dell'anima dopo la morte del corpo temporale o parla di cose che sono temporali e avvenne e avvenne che io dissi loro che era una raffigazione delle cose sia materiali sia spirituali poiché sarebbe venuto il giorno in cui essi sarebbero stati giudicati per le loro opere si proprio le opere compiute mediante il corpo fisico durante i loro giorni di prova pertanto se fossero morti nella loro malvagità essi pure avrebbero dovuto essere rigettati quanto alle cose che sono cose spirituali che si riferiscono alla rettitudine pertanto essi devono essere portati a stare dinanzi a Dio per essere giudicati per le loro opere e se le loro opere sono state immonde è inevitabile che essi siano immondi e se essi sono immondi è inevitabile che essi non possano dimorare nel regno di Dio altrimenti anche il regno di Dio dovrebbe essere immondo ma ecco io vi dico che il regno di Dio non è immondo e nessuna cosa impura può entrare nel regno di Dio pertanto è inevitabile che ci sia un luogo in mondo preparato per ciò che è immondo e c'è un luogo preparato sì proprio quell'orribile inferno di cui ho parlato e il diavolo ne è l'artefice pertanto la condizione finale delle anime degli uomini è di dimorare nel regno di Dio e di essere scacciate a causa di quella giustizia di cui ho parlato pertanto i malvaggi sono respinti lontano dai giusti e anche da quell'albero della vita il cui frutto è il più prezioso e il più desiderabile di tutti gli altri frutti sì è il più grande di tutti i doni di Dio e così io parlo ai miei fratelli Amen